Ci siete qua? Dove sono gli oggetti? Gli oggetti più vicini però! Rimanda la GJ, rimandala! Ok, ci abbiamo qualche oggetto, ok, pure di qui, benissimo, appiccinatevi, vai! Yo, 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 yo! Va bene, è troppo facile! Il primo oggetto lo salto, buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo Don Diego, vengo dalla Calabria, Il primo oggetto che abbiamo passato è Radio Rabia, e poi sarebbe il mio disco, ma non te lo raccoglio, reso conto, faccio freestyle da qui, qui lo metto pronto, la gente viene e si allena, in Calabria ci beviamo tutti quanti la prasilena, è una gazzosa al caffè, io mi chiamo Pasquale Caffiero, come De André, so brigadiero del carcero in me, oh che bello caffè, pur a Napoli usando palma, so da fare meglio il rap, Slow Food, se lo sei comprato, sta là, vicino ai fumetti di Ciampa, faccio pubblicità, c'è la maglia del Colle, io ho le bolle sulle mani, dove sono gli oggetti, datemi lì nelle mani, ho detto con molte mani, praticamente faccio rime ripetute come metà dei rap italiani, ma non sono le mie coquino, boom boom, faccio il mio cucino che mi ha passato il drum, della Chesterfield, ma non faceva solo le sigarette, di chi so' con tutti fai anche le gannette, a Trotone le chiamiamo pallette, dove sono gli oggetti, ne voglio almeno altri 47, ne vorrei quando vengono consumo, è una busta della marijuana ma dentro c'è un tocco di fumo, è così, non mi sfida nella vita, la mia vita è perfetta, garantita, tutta roba, due mani per aria, altrimenti non ho la testa sanitaria per andare al tabaccaio, e comprare cane in blu, a proposito c'era io una tu, io ne ho finita, il mio DJ che si chiama PJ, se la deve fumare, anzi lui non dice in serio, deve gremare, Guglielmo, Guglielmo, prima è molto spesso, ma adesso Guglielmo, litica con Dopponesse, su Facebook vi ho una storia a parte, ma se il tuo c'è una perna, mancano solo le carte, e poi ti scrivo un rap in diretta, freestyle per i ragazzi, una storia perfetta, i miei sono così, regolare perché, il ragazzo con la maglia rossa mi ha passato il lettore in P3 blu, azzurro come il commercio di Celentano, freestyle in italiano, per i ragazzi che lo sanno sono cardino, attaccami in faccia pure questo adesivo, che c'è un uomo senza volto, di qui sto a dormo, c'è anche un film che si chiama l'uomo senza soldo, e regolare quando vengo, i ragazzi vengono se non ti scoccia, lui mi ha passato il tubo della goccia, o forse è una collana di quella che usano i banchi, senza offesa, ma la maglia non sono presa, e la regola alla mia ragazza, che forse non la usa, per cui te la rispondisco grazie, e scusa, se ti ho offeso, regolare il difeso, faccio freestyle, sto sceso, te l'ho già detto come mi chiamo, forse dovrei saperlo, mi chiamo Don Diego, fai casino che intanto io bevo, e poi te lo ripasso, era buono, sto riscato il collasso, ma sta penna di chi cazzo è, lo sai, se la tengo in mano altri due minuti, pensano che mi scrivo freestyle, non me ne vieni improvviso, vabbè me la regali così, le sto regolare quando impugno questo mic, ti ne dava una rima di pista, ma mi ha detto ci lasci le penne come quando è morto quello della pic, guarda te lo compro che lo vedo, dove sono i tuoi oggetti, a me servono per fare il rap, la chiave, non manca mai un freestyle del genere, quando mi passano le gambe anche il posso accendere, scusami devo tossire, questo primo passivo, mi sta quasi ad appassire, la mia gente non cambia, sale sopra la rampa, io prendo gli oggetti, disegno fumetti come ciampa, e ne faccio lo che stanno, ne faccio il beat, e poi è quello che ha fatto le grafiche di artificial kid, ma ciò se lo sai, ti lascio le mani di nuovo, dove sono i tuoi oggetti, o poi mi smesso di fare freestyle, a me ne servono ancora, c'è un'altra chiave, ma l'ho passata a lui, non passa lo straniero come sopra il chiave, dal chiave marmolo a O, dal mio soggetto e non darmi più una chiave, queste erano le mie camera, ma come, sono finite, adesso cazzo faccio, mi fumo le penne e le matite, tira su le mani man, io senza gli oggetti sono come Superman, quando gli dai la kriptonite. Grazie a tutti!